Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come La speranza di veder tornare insieme Tommaso Trussardi e Michelle Lunsicher è una fiamma viva nel cuore dei fan, ma a quanto pare impossibile L'ultimo anno è stato davvero molto intenso per loro, hanno annunciato la fine del matrimonio dopo una profonda crisi che l'ha messo a dura prova, senza però mai allontanarsi del tutto, motivo per cui i fan non hanno smesso di sognare un ipotetico ritorno di fiamma per l'ex coppia Eppure, nel mirino dell'attenzione dei media in queste ore troviamo alcuni rumor sulla nuova vita di Tommaso Trussardi che avrebbe dimenticato del tutto Michelle Lunsicher, gettandosi il passato alle spalle, ma in un modo molto particolare Tommaso Trussardi dimentica Michelle Lunsicher.In questi mesi i magazine in più occasioni hanno fatto riferimento alla possibilità di un ritorno di fiamma per la coppia, ma i diretti interessati hanno sempre smentito questa possibilità imparando, però a diventare una squadra per il bene delle proprie figlie Ovviamente le bambine, sole e celeste, sono il loro fulcro come è giusto che sia per tutte le coppie che prendono una decisione del genere mettendo fine alla loro relazione ma senza interrompere il legame creato per i figli che sono solamente degli spettatori e non hanno nessuna colpa In queste ultime ore, però il gossip impazza per il bel Tommaso Trussardi che, a quanto pare, avrebbe trovato lei a fargli battere il cuore, ma vediamo insieme di chi stiamo parlando perché è un qualcosa di molto particolare e che sicuramente lo lascia senza fiato Arriva lei nel cuore di Trussardi.A rapire il cuore di Tommaso Trussardi è stata la sua passione per le automobili, infatti, nel suo salone personale è arrivata una macchia, ovvero un SUV Maserati levante dalle fattezze strepitose e super lusso che ha lasciato completamente senza parole tutti Un'auto che rappresenta un vero e proprio simbolo di benessere, il cui valore base sul mercato è di circa 96 258 euro, ma basta aggiungere qualche piccolo optional che il prezzo lievita moltissimo, insomma un'auto regalo che non ha semplicemente stregato il cuore di Trussardi ma che, a quanto pare, l'ha totalmente rapito con le sue caratteristiche da super sportiva ma allo stesso tempo elegante Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti